Musica Quasi ultimato il tagliando della giunta, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare a inizio settimana, al centro del vertice tra i partiti di centro-sinistra e il governatore, anche le prossime amministrative di maggio. Utilizzare i beni confiscati alla mafia per il bene comune, quanto chiesto dall'Italia dei valori, in piazza per raccogliere le firme a sostegno dell'iniziativa. Prosegue la battaglia della Corea e del Comitato di Difesa Pubblica della Salute in Molise contro l'eolico selvaggio in regione, a Porto Cannone, un incontro sul tema. Ben trovati con l'informazione di Molise TV, apriamo con la politica. Quasi ultimato il tagliando della giunta, manca solo l'ufficialità che dovrebbe iniziare. Arrivo a inizio settimana. Non solo il rimpasto al centro del vertice tra i partiti di centro-sinistra e il governatore Frattura, ma anche le prossime amministrative di maggio. Sentiamo. Dopo la seduta a fiume della giornata di ieri, chi ha visto i partiti di centro-sinistra in conclave con il governatore Frattura si è chiuso il cerchio della verifica politica. Tra le conferme sembrerebbero esserci gli assessori Vittorino Facciolla, Michele Petraroia e Pierpaolo Nagni. A guadagnare consensi è rialzati Molise. Il coordinatore Riccardo Tamburro sostituisce dunque Massimiliano Scarabeo. Sgomberate le nubi sulla rappresentanza esernina, resta il nodo delle quote rosa e, almeno per il momento, la parità di genere non trova spazio nella nuova giunta. Il vertice di maggioranza avrebbe affrontato anche la questione delle prossime elezioni amministrative a Campobasso e Termoli in vista dell'imminente scadenza del 18 marzo per la presentazione dei candidati alle primarie del centro-sinistra, in agenda il 30 marzo. Una riunione dunque che ha toccato diversi punti e ora non resta che attendere l'ufficialità delle decisioni assunte che con molta probabilità dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì. Intanto l'appello dei partiti Sinistra, Ecologia e Libertà, Rifondazione Comunista e Socialisti è facciamo in fretta e appassioniamoci di temi e non di nomi. Recepere le sollecitazioni della Corte dei Conti e recuperare ritardi facendo chiarezza sulle ragioni del dissesto finanziario, questo il monito dell'assessore Petra Roia. La regione molise ha l'obbligo di rispettare le leggi dello Stato e non potrà che accelerare ogni adempimento in tal senso. Premesso ciò, ha puntualizzato l'assessore, bisogna dire che le tre leggi abrogate dalla Corte Costituzionale risalgono alla precedente legislatura e non sono imputabili ad errori di impostazione, ritardi o d'omissioni dell'attuale maggioranza di centro-sinistra. Così come segnalare che al 31 12 2012 erano stati accumulati 334 milioni di debito nella sanità molisana è un'eredità della passata legislatura che non può essere attribuita all'aggiunta frattura, concluso Petra Roia. E cambiamo argomento, tra le candidature certe alla carica di sindaco del capologo molisano c'è quella di Bibiana Chierchia. Con lo slogan BC per CB la candidata proveniente dal mondo della scuola ha esposto le iniziative che intende portare avanti, raccogliendo anche suggerimenti e idee apportate dalla collettività. Vediamo. Non una candidatura di genere né una candidatura di protesta. Con queste parole Bibiana Chierchia ha aperto la conferenza stampa in piazza Municipio a Campobasso. Recupero del centro storico cittadino, del verde pubblico e da buon insegnante un'attenzione particolare rivolta alla cultura in tutte le sue sfaccettature, i punti forza del suo programma. Il rapporto diretto con i cittadini è indispensabile per proporsi come cittadina fra i cittadini come candidato sindaco. È indispensabile ascoltare e condividere le istanze, le necessità e purtroppo in questo periodo anche le sofferenze dei cittadini per costruire un programma che vada incontro alle esigenze di tutti. I punti di forza saranno, il primo simbolo è quello di oggi. Stiamo distribuendo, stiamo condividendo il seme di una città verde d'Europa con il simbolo delle primule, simbolo di rinascita e di rinnovamento. Questa città deve nemmeno soltanto rinascere, deve cambiare in modo radicale. Questa città deve riscoprire il centro storico come cuore pulsante della città. Questa città deve avere una viabilità e un'urbanistica degna del nome di città d'Europa. Ed ora la cronaca, altra tragedia che si è consumata nella notte di sabato lungo le strade della regione. Intorno alle 23.30 del 15 marzo un terribile incidente non ha lasciato scampo a Filippo Cicco Tosto, un giovane di 30 anni e parrucchiere professionista molto conosciuto nell'Alto Molise. L'uomo ha perso la vita dopo che la sua auto è uscita di strada e si è ribaltata sulla Fondovalle Verreno, la provinciale che Dagnone porta sulla Tregnina. L'incidente è avvenuto all'altezza di Poggio Sannita. Il giovane ha riportato delle gravi lesioni e il suo cuore ha smesso di battere durante il trasporto all'ospedale veneziale di Isernia. Purtroppo a nulla sono valse i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del 118. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. Utilizzare i beni confiscati alla mafia per il bene comune è quanto chiesto dall'Italia dei valori che nella giornata di oggi è scesa in piazza per raccogliere le firme a sostegno dell'iniziativa. Sentiamo. Una proposta di legge di iniziativa popolare per la vendita dei beni confiscati alla mafia per destinarli a fini sociali. Questa è l'iniziativa messa in campo dall'Italia dei valori nelle principali piazze molisane dove, come in altre città italiane, sono stati allestiti dei gazebo per firmare la petizione. A spiegare l'iniziativa l'assessore regionale Pierpaolo Nagni. I beni confiscati alla mafia in Italia attualmente equivalgono a 80 miliardi di euro, che è una vera e propria finanziaria. Rimangono fermi per questioni burocratiche o per un meccanismo normativo che indebolisce l'azione dello Stato e rafforza invece gli ex proprietari di questi beni. Noi immaginiamo che dobbiamo svincolare questo e cercare di trasformare quella ricchezza in una ricchezza sociale. Quindi il tentativo di trasferirli agli enti, ai comuni e fare in modo rapidamente che questi soldi possano essere addirittura anche utilizzati per la vendita diretta dei beni, che potrebbero fare cassa e fare molto, molto, diciamo, funzione finanziaria nell'ambito del quadro attualmente del governo. E ancora cronaca. I carabinieri della compagnia di Campobasso hanno arrestato a Riccia un uomo di 44 anni del posto che, armato di coltello e avvolto coperto, ha tentato di rapinare una rivendita di tabacchi alimentari. Fatta eruzione nell'esercizio commerciale, il malvivente ha chiesto alla titolare di consegnargli il denaro, ma la donna ha gridato aiuto e subito è partita una chiamata al 112. Immediato l'intervento degli uomini dell'arma che hanno individuato il rapinatore lo hanno accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. E cambiamo argomento. Salute pubblica, agricoltura e territorio. Questo è il titolo dell'incontro promosso a Porto Cannone da Corea e dal Comitato di Difesa Pubblica della Salute in Molise. Al centro del dibattito la proliferazione selvaggia dell'eolico in basso molise. Sentiamo. Una sala gremita, quella di Palazzo Manes a Porto Cannone, ha accolto l'incontro pubblico organizzato da Corea. Segno questo che i temi salute pubblica, tutela del territorio e inquinamento sono temi a cui tengono molto i cittadini basso molisani. Vincenzo Musacchio, che ha aperto il dibattito come padrone di casa, ha poi lasciato che i componenti del Comitato Scientifico di Corea per la prima volta tutti insiemi conducessero il dibattito. Un comitato composto da esperti, come sottolineato dallo stesso Musacchio. Il dottor Pietrantonio, che è un medico, è un professore universitario delle università di Padova. Abbiamo un veterinario, abbiamo un esperto di tutela del territorio che affronteranno tutte queste tematiche per informare i cittadini su ciò che c'è nel basso molise. Io più volte, l'ho detto a questa emittente, nel basso molise ci sono i rifiuti tossici. Ma il tema principale dell'incontro non sono stati i rifiuti tossici, bensì la proriferazione selvaggia dell'eolico in basso molise. Noi riteniamo, e lo ha detto il TAR con tre sentenze confermate anche al Consiglio di Stato, che il molise ha raggiunto il massimo di concentrazione di palle eoliche. Oltre non si può andare, non possiamo ancora continuare a deturpare questo territorio, questo molise, che dobbiamo tutelare in ogni modo possibile. Dunque chiara la posizione di Corea, che si oppone con un secco no alla creazione di nuovi impianti eolici in basso molise, in particolare nei comuni di Monte Cilfone e Campomarino, dove la regione molise ha dato l'ok per la costruzione di due nuovi parchi. Ma i comitati hanno idee chiare e precise. Se non si troverà un compromesso, si rivolgeranno al TAR. Ci occupiamo ora di trasporti. Il segretario generale della Filt Molise, Giorgio Simonetti, ha inviato una nota all'assessore Pierpaolo Nanni per chiedere un incontro urgente in ordine alle insistenti voci di separazione dell'azienda Sati e ATM SPA. L'incontro, si legge nella nota stampa, è fondamentale per valutare possibili ricandidature negative sui livelli occupazionali delle due aziende in caso di scissione delle stesse. La Filt CGL Molise ha auspica, nel caso in cui dette indiscrezioni fossero confermate, che le possibili soluzioni passino attraverso trasferimenti di personale che abbiano come criterio prioritario il volontariato consenso dei dipendenti. Il 15 marzo 1944 il comune di Venafro venne bombardato per un grosso sbaglio da parte di truppe anglo-americane con lo scopo di abbattere la città di Cassino nel Frosinate. Due corone di fiori sono state depositate per ricordare quel triste giorno. Sentiamo Olivia Garofalo. Ricorre quest'anno il settantesimo anniversario del bombardamento di Venafro avvenuto il 15 marzo 1944. L'evento ebbe luogo per un gravissimo sbaglio dei bombardieri alleati, i quali scambiarono Venafro per la vicina Cassino, dove erano diretti per stanare la resistenza nazista e scaricarono sull'intera popolazione bombe esplosive. Centinaia furono le vittime, tanto alla distruzione dell'abitato urbano. Per commemorare questo triste giorno la cittadina di Venafro è intesa promuovere delle manifestazioni, a partire dalle ore 10 di mattina, con la celebrazione della Santa Messa. A seguito Lungo Cortello è partito per deporre una corona di fiori alla sede del municipio, per poi concludere i festeggiamenti con la seconda deposizione della corona di fiori innanzi ai piedi del monumento ai caduti, dove autorità civili, militari, religiose e cittadini si sono radunati in piazza per assistere al discorso finale del sindaco Sorbo. Una tragedia immane di cui Venafro continua a portare profonde ferite e che solo qualche anno dopo la Repubblica Italiana ha ufficialmente riconosciuto, assegnando alla città la medaglia d'oro per l'enorme sacrificio patito. Nel 2005 Venafro ha avuto questo prestigioso riconoscimento, oggi coronato dalla concessione dell'alto patronato del Presidente della Repubblica, queste nostre iniziative che servono per celebrare, per commemorare quel tragico evento. Quindi per noi che abbiamo organizzato questa manifestazione è una grande soddisfazione, ma penso che sia una grande soddisfazione per l'intera città di Venafro e per il Molise. Come annunciato ieri ha riaperto i battenti per il fine settimana all'impianto di Monte Capraro. Una buona notizia per tutti gli appassionati di sci che mitiga in parte la delusione per l'annullamento delle finali della Continental Cup. Sentiamo. Grazie alle nevicate della scorsa settimana all'impianto di Monte Capraro, Capracotta ha riaperto i battenti da questo fine settimana. Finalmente una buona notizia per il Comune Alto Molisano, dopo la grande delusione legata all'annullamento della finale di Coppa Europa di sci di fondo, in programma proprio per questo weekend. L'amministrazione comunale e lo sci club di Capracotta, che tra l'altro ha festeggiato da poco i suoi cento anni, avevano puntato moltissimo su questo evento sportivo per rilanciare lo sci a Capracotta e dare una boccata d'ossigeno agli operatori turistici. Purtroppo un'anomala stagione invernale, senza nevicate abbondanti e temperature ben al di sopra della media, non ha permesso che si creassero le condizioni minime per il regolare svolgimento della Continental Cup. Pazienza, la riapertura dell'impianto è già qualcosa e la speranza è che in questo scorcio di stagione si possa cercare di recuperare, in termini di presenza sulle piste, presso le strutture ricettive. Nel frattempo c'è stato l'avvicendamento al vertice di Funivie Molise. L'avvocato Franco Mancini ha preso il posto di Mario Caruso. È stato proprio il nuovo dirigente a comunicare la riapertura dell'impianto al sindaco Antonio Monaco, che ovviamente ha colto la notizia con grande entusiasmo, dopo che per settimane, insieme ai suoi concittadini, aveva in vano sperato in abbondanti nevicate. Ora la neve c'è, non è tantissima, ma la notizia è che sulle piste di sci di fondo di Capracotta finalmente si scia. Cambiamo decisamente argomento. Un concerto molto atteso, quello di ieri sera, a calcare il palco dell'auditorium di Isernia, Gigi D'Alessio. Molti fan provenienti anche da fuori regione. La nostra emittente Molise TV ha seguito in esclusiva l'evento. Sentiamo. Evento musicale straordinario Isernia, presso l'auditorium Unità d'Italia, del concerto non d'atteso di Gigi D'Alessio, che ha aperto proprio Isernia il suo tour, denominato Ora Tour, e che porterà in giro per tutta Italia. Grosso successo di pubblico, sala gremita in ogni ordine e posto. Noi di Molise TV abbiamo seguito in diretta e in esclusiva il concerto e lo abbiamo intervistato. Gigi D'Alessio, cantante napoletano di fama nazionale e internazionale. Come mai proprio qui a Isernia hai scelto di fare il tour, Ora Tour? Perché è una città straordinaria. Paradossalmente ho cantato prima a Sydney, in Australia, ho fatto giro del mondo, non avevo mai andato a Isernia. Ho trovato questa città splendida, una popolazione anche abbastanza giovane, i ragazzi hanno voglia di spettacoli in questa città. Sono stato oggi ospite del sindaco e dell'assessore, devo dire che sono delle persone splendide, quindi credo che questo sia l'inizio di un'apertura anche per altri concerti, cioè non solo il mio ma anche di altri artisti, perché è giusto che i ragazzi di Isernia abbiano anche loro i loro spettacoli senza spostarsi in altre città. Sono talmente impegnato con le prove che hai potuto vedere la città di Isernia. Sì, ho visto poco ovviamente, perché poi il tempo di fare le prove andavamo a mangiare, tra l'altro si mangia anche molto bene a Isernia, quindi ho messo due chili e per mettere due chili ti assicuro che ci vuole una vita. Ho visto il corso, so che qui ci sono i resti della persona, della prima persona che ci stava in Europa. Tu manco tu lo sai, che qui a Isernia avete i resti umani della prima persona che è vissuta in Europa. L'ho saputo oggi, quindi è una cosa importante, insomma, avete, c'è storia qui, c'è storia, c'è gente, c'è calore, c'è passione e ci sono i veri sentimenti. Un'ultima cosa, ci puoi salutare i fan, i telespettatori che ci seguono da Molise TV. Ciao a tutti, sono Gigi D'Alessio, un bacio grande a tutti gli amici di Molise TV, ma soprattutto una buona vita a tutti voi. Ciao! E questo era il nostro ultimo servizio, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV. Previsioni del tempo per lunedì 17 marzo. Un campo di alte pressioni abbraccia il sud-est d'Italia garantendo tempo stabile e soleggiato su Molise, Basilicata e Puglia. Venti deboli settentrionali, mare da mosso a poco mosso. Campo basso minima 9, massima 17 gradi. Isernia minima 6, massima 19 gradi. Termoli minima 13, massima 21 gradi. Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campo basso adiacente al cinema maestoso. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!